E' iniziata con la preview di questa mattina nello storico Palazzo De Maio di Chieti, sede della Fondazione Banco di Napoli, il primo appuntamento di Coralia, festival promosso e prodotto dalla cooperativa Mirare. Un inizio dedicato al ruolo positivo e propositivo che le fondazioni di origine bancaria hanno per lo sviluppo e la crescita del territorio dove operano, come nel caso del finanziamento elargito dalla Fondazione Banco di Napoli tramite Art Bonus per la rigenerazione della ex chiesa di Santa Maria del Tricalle a Chieti. Coralia Fest è l'inizio di un percorso sperimentale dove una cooperativa di comunità arriva lì dove termina l'intervento pubblico privato della soprintendenza e della Fondazione Banco di Napoli per il recupero della chiesa medievale del Tricalle e parte con un programma di incontri sulla rigenerazione urbana e sulla valorizzazione dei beni architettonici quale strumento per promuovere una nuova economia culturale e sociale a favore delle comunità di riferimento. Un progetto importante che vede anche la sinergia con la soprintendenza di Pescarachietti? Assolutamente sì, è il primo progetto in Abruzzo che utilizza l'Art Bonus e noi ci auguriamo che sia l'inizio di un percorso che possano seguire altri mecenati e filantropi che amano quelli che sono le perle di questa regione, così come nel resto d'Italia, quindi speriamo che sia ad esempio a tanti altri. Questa sinergia ci ha consentito di fare fronte comune non solo per quanto riguarda la sostenibilità economica ma anche di incrociare poi la volontà del partner privato Mirare che sia candidato alla gestione di questo luogo e la gestione è fondamentale proprio per poter continuare, anzi proporre una ripresa e una rinascita di vita, di attività a favore anche della comunità perché il nostro interesse è quello che il bene torni ad essere a disposizione della comunità.